grandissimo protagonista sanremo cristiano de andrea che abbiamo con noi benvenuto grazie grazie ieri è passata la canzone ai comunque esternato sul palco che avresti preferito insomma che passasse invisibili diciamo che molte persone mi hanno fatto dei complimenti su invisibili quindi tanti anche giornalisti quindi mi aspettavo che passasse invisibili ma non perché non valuto meno il cielo vuoto il cielo vuoto mi piace tantissimo è viva per la seconda un pezzo bellissimo una lavagna dove noi possiamo scrivere riscrivere i nostri nostri sogni sì sì i nostri sogni è quello che quello che saremo quello che vogliamo essere ma credo che dovremmo farlo con un'altra ottica cercando di credere di più in noi stessi e quindi cercando questi colori davvero nella nostra anima e se senza farci di consigliere da nessuno e sono entrambi contenuti nel tuo nuovo album come in cielo così in guerra vogliamo insomma raccontare un po di questo album il lavoro che c'è stato alle spalle ma il lavoro è si chiama come in cielo così in guerra è un album che contro le caste quindi contro la legge del più furbo contro questi 40 anni di sottocultura dove siamo ritornati a credere che il denaro ci renda felici che sia il mito e la legge del più furbo appunto quindi fregare gli prossimo e quindi secondo me dei falsi miti dei falsi ideali un mondo prontato solo sul commercio sulla compravendita umana alla fine dei cervelli io credo e mi sento molto lontano da tutto questo ho fatto un disco contro questo questo momento storico un po alienante e rifacendomi poi agli anni 70 a quello che mi ricordo di difficile per gli anni 70 80 sono stati degli anni particolari però anche molto belli molto belli da un punto di vista culturale da un punto di vista artistico letterario poetico pittorico e quindi c'è stata un'esplosione dell'arte e gli hippie la pace l'amore il rifarsi agli indiani d'america come come modello a un società perfetta anarchica senza che non aveva bisogno di nessun potere o di nessun signore da delegare per gestire i propri affari e quindi ecco questo questo album qua generale parla appunto di questo contro le casta della chiesa contro le casta del potere per ritrovare quella bellezza che era uno sguardo profondo che dava l'idea che c'era un'anima coltivata ecco dietro parliamo della serata di venerdì che sarà davvero emozionante perché canterai una canzone del tuo grande papà dedicata alla tua mamma che tu hai sentito quando avevi dieci anni e ti eri emozionato ho sentito una notte che mio padre ha segnato mia madre perché l'aveva appena scritta gliela cantata e si è commossa quindi è un momento che ricordo con emozione lo dedicherò a tutti e due venerdì saranno lì con te sul palco sì 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 il l'omaggio di ligabue che ha aperto insomma la prima serata è stato molto carino molto molto inaspettato molto improvvisato ma devo dire lo ringrazio di cuore perché ha fatto un regalo magnifico cristiano tu hai una testimonial che continua in televisione su tutta la carta stampata a sponsorizzare soprattutto il premio alla critica a te stiamo parlando di alba parietti sì sì continuati fare per te in ogni trasmissione in ogni sua dichiarazione elogiando chiaramente il tuo talento e le tue canzoni bene sono contento sappiamo di te che sei molto scaramantico tra l'altro hai scritto anche un disco a riguardo e sappiamo che prima di entrare sul palco per queste quattro volte che hai calcato il palco dell'ariston sempre fatto il segno della croce sì segno della croce perché un segno che mi piace mi piace non so se da un punto di vista religioso o meno comunque rappresenta cristo rappresenta quella croce dove cristo è morto e per me gesù cristo che sia forse figlio di dio o meno è stato veramente un grande uomo forse il più grande rivoluzionario come diceva anche mio padre di tutti i tempi perché quello che ha detto ha salvato l'umanità c'è soltanto una frase chi non ha peccato se cagliere la prima pietra detta in quegli anni l'anno zero è stata forse una cosa al di là dell'impensabile grazie mille di essere stato con noi grazie a cristiano grazie a voi grazie a voi grazie a voi